Quello del donà è in realtà una modifica che sono le basi che si usavano sotto gli abiti nel 1700-1800, cambia nelle epoche. Vedete quanto io vi dico magari le cose così più carine e simpatiche? Si può dire che il consenso era costruzione. Quello che vedete di quel telaio era molto più grande e nell'800 era fatto di paglia e di giunco eccetera. Per scattarsi le donne normalmente stavano molto vicine ai cambiamenti anche per cucinare. Moltissime hanno preso poco l'oro e tutto il loro vestito perché quella parte sotto era altamente infiammata.